Duccio Galimberti con la sua famiglia amava viaggiare e conoscere il mondo Duccio! I bagagli! Si parte per la Francia, Monsieur Dame! Et voilà! Una pizza a Napoli? Un po' di inglese a Londra? How are you, Mr. Galimberti? Un giretto ai templi greci per ripassare i classici Duccio tornava a casa ogni volta con un bagaglio di avventure da raccontare e uno di cartoline Un po' di inglese a Londra? 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 Un po' di inglese a Londra?